Io ho anche una faccia bella per fare questo video. Ciao a tutti, siamo qui all'Arcitelago per la prima volta e devo ammettere che il posto è veramente bello, fatto bene, gestito bene, con persone gioviali. L'unica cosa che stona un po', al mio modesto parere, le condizioni del Joker, non si vedrà, ma è veramente qualcosa che sembra la palude di Mordor. E quindi io chiedo veramente che sia un attimo più, perché è anche una questione di estetica, lo dico al comune, e basta.